Ciao ragazzi, siamo in un'altra casa, siamo in una casa di Lorenzo di tutto Scusate se siamo usciti, abbiamo fatto altri due video che dovevamo fare, solo che io per sbaglio ho cancellato Vabbè, non mi lasciamo inciacchiere, mi lasciamo al video Allora, il video sarà delle scelte dipendenti della scuola, quindi vi lasceremo al video Ok Sto guardando, ciò che ti dasci, lo sto perdendo sempre Non so, lascio un po' di Sì Dai, per un minuto incazzi Ho fatto Ciao 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 Mi sento decisamente meglio ora che l'ho squartato il mio alunno. Bene ragazzi, abbiamo concluso questo video, cioè non abbiamo concluso, scusate. La prima scelta. Allora, per chi non l'ha capita, ero io il prof. Mi ha tagliato l'arma, no? E lui si stia sentendo su me e vado, ed era l'alunno, giocava a Geometry Dash e perdeva. Io sono andato e ho detto, posso provare, lo provo, prendo e lo squarto con la coppia secca. Sì, tutto semplice. Movi, passiamo alla prossima scelta. Salve alunni. Salve maestro. Allora, come il giorno dell'oretto, se tu veramente fai un impregnante schifo, secondo me. Mi ti va a favore, devo vedere se hai fatto i compiti, perché sono ben fatti uguale a te, ma in direzione. Allora, questa è una scelta del peso ordo, il peso del capitale, ma è il compito. Sì, veramente. Hai fatto anche il costo totale, la quantità è il costo totale. Ah, se quella è la proprietà incontrata, lì. I problemi, vuoi vedere i problemi? Sì, comunque si diranno anche nei problemi, sì. Attraverso dalla quarta, fin schifo. Non, 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 percivalo! Non, 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 non. Non, non, ci sia un pollo! Quanto sangue! Beh, allora, abbiamo fatto anche la seconda cenetta, poi si creano la tutta. Allora, questa cenetta che si consisteva, io ero sempre il troppo. Lui era l'ameno. Teneva... Un compito? Cioè, capita che qua c'era... perché iniziava tutta la classe. Lui era l'anuno che in quarta faceva schifo. Diciamo che era iniziata la quinta. Allora, lei e lui... Io ho detto, vediamo tutti. Ha fatto tutti i compiti perfetti. E poi lui era improvviso come una pazzia che uccide. Così. Ok, ora passeremo alla terza cenetta. Bella. Chiudi. Bella! Ma che cacchio! Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, comunque sono veramente non soddisfatto per tutti quanti voi che avete fatto un compito fantastico ieri. Tutti i 4 anni. E poi, non ci sono anche un compito. Perché tu, ecco qua, hai avuto 2 e mezzo. Mi hanno avuto 2 e mezzo. Mi hanno avuto 2 e mezzo. E sta con mezzo. Oh! 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 Ah! Oh! Oh! Ma che ti senti senza fare? Ma che mi ti senti una mezza? Che sei una mezza! Che sei una mezza! Cazzo! Questa! Questa! La tua fortella! Finalmente! Ti ho sconfitto! Non fermo! Questa è Sparta! No! 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 No!